Eeeh, ce n'era gente di Valdieri in America, testimonianza di Giovanni Caranta, detto Peru, nato a desertetto di Valdieri, classe 1896, contadino. Qui a Tet de Chouina, in queste poche baracche, una volta vivevano 60 persone. Mio nonno aveva cinque fratelli, uno si era fatto sette anni di guerra, della guerra del 1848. Era tornato talmente con il sangue spaventato, ossia sconvolto, che tutte le notti dava l'allarme, gridava nel buio e poi morto per causa di quella guerra. Cinque fratelli sposati, otto figli in media per famiglia, in 40 vivevano in queste tre baracche e in più due altre famiglie. Può a immaginare se non c'era miseria. Quando sono nato io, a desertetto, vivevano 750 persone sopra di 12 anni. Qui c'era il prete, 750 che pagavano due lire l'anno la quota per mantenere il prete. Sotto i 12 anni ce ne erano tanti, la popolazione era sui mille abitanti. Si mangiava patate. Il mio bisnonno è quello che ha scoperto le patate, ha visto attorno al forno delle piante strane, ha tirato fuori una patata. Ma guarda un po' che qualità di patatine selvatiche, perché loro prima mangiavano in issoi una patatina selvatica grossa come un mezzo uovo. Ha fatto cuocere quella patata. Uh che buona! Allora hanno cominciato a seminare le patate. Questo avveniva 200 anni fa, le prime patate mangiate a desertetto. Oh, ne è passata della miseria. Proprio fame noi non ne abbiamo fatta. Mio padre era del 1863. Era un gran lavoratore. A 12 anni andava già a lavorare in Francia. Andava lì dietro, a Cannes, a Nizza, a San Raffaele. Se ho fatto la guerra del 15? Ne ho fatto io dei sacrifici per l'Italia. 30 mesi di linea. Mi hanno chiamato, avevo 19 anni. Prima col secondo Alpini, battaglione Argentera, poi al Sesto Alpini, con il battaglione Sciatori-Monte Pasubbio e poi al Cividale dell'Ottesimo Alpini. Cercavamo solo di salvarci. La prima volta che sono andato in linea era il 28 maggio del 1916. Sul Trentino, sul Monte Fiore, c'era la ritirata mentre Asiago bruciava. Noi eravamo quattro battaglioni su una posizione in alto. Loro sette divisioni. Quattromila uomini contro sessantamila. Li abbiamo tenuti. Del mio battaglione Argentera eravamo 227 fucili in linea. Otto giorni dopo siamo andati a riposo in 22. Il resto tutti morti e feriti. Eh, in guerra ammazzano. E l'Oltigara? Volevo, farci prendere quella montagna con 150 uomini. E allora? Avanti. Era un'ora prima del giorno. Compagnie, affiancate. Poi protoni. Poi squadre, sparpagliatevi e andate avanti. Io sono arrivato addosso a uno che ha fatto un grido. Era un austriaco che aveva ancora più paura di me. Ho fatto una giravolta. Una cavriola. Mi ha sparato ma non mi ha colpito. E sul Montefiore? Abbiamo avuto un attacco serio. L'indomani c'era la nebbia. Siamo poi usciti a contare gli austriaci morti. Erano più di 300. In questo attacco ero vicino a un mio amico di Valdieri, Audisio. È arrivato un colpo di artiglieria che mi ha coperto di terra. Audisio mi ha disotterrato. Ero ferito la testa. Il sangue che colava. Sono andato all'infermeria e mi hanno messo un rappezzo. Nell'infermeria c'era il capitano Nasali Rocchia steso su una barella. E accanto il capitano Giordanengo di Roccavione che lo toccava. Che gli diceva. Oh povero Nasali. Te l'avevo detto che non ci salvavamo più qui. discorreva con Nasali morto. L'indomani sera hanno portato anche il capitano Giordanengo morto. Erano andati sette volte all'assalto alla Baionetta sul Montefiore. C'era un caporal maggiore di Carrù che gli dicevano Patrissio. Giordanengo gli fa. Patrissio salta fuori. Capitano che salti fuori lei. poi salto fuori io. Il capitano esce e cade subito colpito. La guerra era più pericolosa per l'ufficialità. Sì perché gli ufficiali erano più controllati. Tutti chiedevano dov'è il tenente? Il soldato poteva anche nascondersi due o tre giorni che nessuno lo cercava. Uh lì sul monte fiore sono rimasti 38 ufficiali tra morti e feriti in due mesi che siamo stati nel Trentino. Che cosa pensavamo di quella guerra? Pensavamo che la guerra era la rovina. Le guerre non sono per il benessere ma per la distruzione. Io sapevo già quasi come adesso ma il 99 per cento dei contadini non sapeva non capiva. Il basso popolo era innocente al completo. Non sapeva nemmeno da che parte leva il sole. Senza istruzione e senza niente come fare. La bassa gente cercava solo di salvarsi la pelle. Quello è un istinto. Nel 1923 con mio cugino Alfonso Norato ho deciso di andare nel Nuovo Messico. Là vive un mio fin dal 1894. Aveva due piccole miniere. Là la vita era meglio. Qui c'era una gran miseria. Là c'era un tenore di vita. Siamo partiti da Genova con il conte verde. 1900 lire il prezzo del viaggio. 11 giorni di traversata. Non abituata ad andare sull'acqua. Un po' di paura c'era del bastimento. Arrivati a New York a Castelgarda, un'isoletta dove passavano tutti gli emigranti del mondo, facevano la visita medica. Noi del conte verde eravamo 1800 e 40 non erano in regola. Hanno dovuto tornare in Italia. Poi abbiamo preso il treno i migranti ma là non facevano come qui da noi che mettono i viaggiatori come le acciughe in barile. Là ce ne sarebbero ancora stati mille sul treno. Eravamo comodi con un servizio specialissimo di lusso. La compagnia Santa Fe passava pranzo e cena. C'era il pacco viaggio o il ristorante sul treno. Ad andare lassù nel Nuovo Messico c'erano 3000 miglia, 4600 chilometri o anche di più. Tre notti e tre giorni in treno. Il Nuovo Messico ha un'estensione come l'Italia. Ed è tutto boscaglie, minerali, terra fertilissima. Ce n'era gente di Valdieri in America. Ci saranno state almeno 100 persone, a famiglie intere. Solo di desertetto eravamo 29 in America. Se speravamo di fare fortuna? Ma uno ha tante idee. La speranza era di fare un po' di risorsa. Mio zio ha fatto fortuna. Ha fatto laureare i due figli e gli altri quattro li ha arrangiati. Se fosse come gli indiani, loro sono anticapitalisti. Uno agli indiani può dare tante cose ma loro le rifiutano. Il governo dava loro terreni, bestiame, ma loro non erano per capitalizzare. Noi altri invece siamo stati allevati nella miseria. Se uno può guadagnare un soldo, lo custodisce lì per un altra volta. Con il treno siamo arrivati a Manero, un comune di 250 elettori. C'erano tante miniere piccole dei messicani. I messicani sono gente di colore oliva, gente mica cattiva, ma con poca voglia di lavorare, abbastanza ladri. Come fanno conoscenza con uno? Gli chiedono subito se ha un dollaro da prestargli e poi non lo rendono. Ma sono bravi, sono più umani di noi. Se hanno solo un piatto di fagioli, lo dividono. Loro dicono tutti quelli che sono spagnoli sono fratelli, fanno comunità tra loro. Mio zio aveva cinque figli e una figlia. Aveva due piccole miniere in cui lavoravano dieci uomini in una e otto nell'altra. Lavorava tutto a mano. I vagonetti venivano trainati dai muli sottoterra. Mio zio guadagnava abbastanza. A noi dava cinque dollari al giorno e pagavamo 35 dollari al mese di pensione. A volte facevamo doppia giornata, risparmiavamo mille dollari l'anno. Il dollaro valeva 22 lire. In casa nostra il problema della lingua non esisteva. Mio zio e mia zia parlavano piemontese, i bambini parlavano lo spagnolo, i ragazzi che andavano già a scuola parlavano l'inglese. Io mi sbrogliavo meglio che a Cuneo, andavo a Chicago, ci sono più rotaie appese a Chicago di quante ce n'è in tutta Italia. Nel 1930 l'America era il punto in cui siamo noi oggi. Là avevano una macchina ogni cinque persone. Là chi può arrivare a fare i soldi fa soldi. La Costituzione degli Stati Uniti sarebbe giusta, rispetta perfino i cani, ma la legge come la fanno la violano. È come qui, in tutto il mondo è così. Nella miniera il lavoro era pericoloso. Quando uno si mette due o tre mila miriagrammi sulle braccia ogni giorno, alla sera lo stomaco fa male. Lavoravamo a 300-400 metri di profondità, mica tanto basso. Erano miniere piccole, assicurazioni nessuna. C'era l'assicurazione ma non obbligatoria, la faceva solo chi voleva. E capitava che se uno moriva nella miniera davano alla famiglia qualche sacchetto di farina, qualche piccola cosa, così come compenso e passavano tre ispettori, quello dello Stato, quello dell'assicurazione, quello del governo. Ma prima di scendere nella miniera erano passati dal padrone che offriva loro un bicchiere di whisky e gli riempiva le borse. dappertutto è così. C'era l'unione che passava un po' di giustizia, ma anche quella teneva per i padroni. La giustizia è contro il buonsenso. Così fino al 1933. Poi avevo qui mio padre e mia madre e non volevo abbandonarli del tutto. Non potevo più dormire pensando a loro. Se uno è sposato perde l'affezione ai vecchi, ma quando uno è solo non può stare lontano. È la casa che mi ha fatto tornare. Ho portato in qua i pochi risparmi, ma si sono poi perduti da soli con la svalutazione. Qui al Chabot del Chiuina nel 1933 c'era ancora una ventina di persone. L'Italia era cambiata in meglio, ma c'era il fascismo e io ero contro il fascismo e sarò sempre contro il fascismo e sarò sempre contro tutte le dittature, tanto di destra che di sinistra. Ero contro il fascismo perché bisognava seguire la volontà di uno solo, mentre che se le cose vengono risolte in comunità c'è una giustizia più perfetta. Lasciamo solo perdere il fascismo. Mi ha dato il vantaggio che tutto il mio sudore che ho portato dall'America l'ho perduto con la svalutazione della lira. Poi è venuta la guerra del 1943. Da qui sono passati i tedeschi. Al Chabot del Chiuina eravamo ancora una quindicina di persone. I contadini, per chi tenevano, tenevano dove erano forzati di andare. Qui c'erano gli sbandati, c'erano i repubblichini, i tedeschi. Era una specie di anarchia. Il più forte mangiava il più debole. Qui c'erano 10-12 sbandati armati che rubavano. C'era un certo Armando, uno sbandato, ex carabiniere arrivato dalla Francia con lo sbandamento. L'hanno ammazzato su, di là, per prendergli 800 lire. Sono gli sbandati che l'hanno ammazzato. E' ancora là, tra le rocche. I chiotte. Loro avevano da pensare ai tedeschi. Io tenevo solo che fosse venuta la pace e la libertà. Era un mal di vivere. I repubblichini arrivavano qui con il fucile. Ci obbligavano ad andare a lavorare per loro. Sono andato su quella montagna a togliere la neve. O andare... O ci ammazzavano. Nel 1945 eravamo in mezzo alla strada, derisi da tutti. L'Italia è la padrona del mondo, aveva detto Mussolini. Ma non era vero. E De Gasperi domanda aiuto alla Russia. E la Russia risponde. Fino a quando gli italiani non avranno rimesso a posto tutte le pietre che hanno buttato giù. Nessun prigioniero verrà reso dalla Russia. Il ministro dell'approvvigionamento dice a De Gasperi non c'è più niente da mangiare. Allora De Gasperi manda un cablogramma a New York. Al sindaco la guardia, che era un napoletano. La guardia sente dall'altra parte del filo l'SOS. Telefona a Washington e dall'America partono navi e navi di farina bianca. Ed è arrivato il benessere. Ma adesso non camminiamo di nuovo bene. Il benessere ha il suo limite. In America nel 1929 hanno poi fatto la svalutazione di Wall Street e hanno sconvolto le economie di tutto il mondo. Alla vigilia di quel disastro, anche là c'era il benessere. La gente non aveva più voglia di lavorare. Poi è venuta la crisi e andavano a incinocchiarsi davanti alla porta di mio zio. Bernardo fateci lavorare, dateci un po' di farina. La nostra Costituzione è mica malfatta, ma bisognerebbe cambiare qualche clausola. Per esempio, a proposito degli scioperi, ci vorrebbe più controllo. Ma come? C'è gente tra gli statali che prende 800.000 lire al mese e fa sciopero. L'operaio ha diritto allo sciopero, ma quelli delle 800.000 lire no. Non so se andiamo avanti così. Solo le mutue hanno un deficit di 670 miliardi. Io ho una piccola pensione contadina. È un bel aiuto. Per noi che viviamo con due patate e un po' di latte, è un aiuto enorme. Si capisce che se uno deve andare a vivere in città, non paga l'alloggio a dormire, ma in campagna risolve il problema. Noi li abbiamo i politicanti e sono competenti. Colombo, Saragat, Moro e compagnia. Ma non basta, perché salta fuori quello che è malcontento, i franchitiratori, e vogliono avere il portafoglio e fanno la crisi. Un giorno o l'altro succede come in Francia nel 1958, che ogni 24 ore facevano un governo nuovo. È tutto per i soldi. Una volta un deputato guadagnava 6.000 lire l'anno, pagava 500 lire di tasse, gli restavano 5.500 lire. Se non siamo capaci a vivere in democrazia, andiamo purtroppo a finire nel regime dei colonnelli. Il fascismo l'abbiamo passato. Sappiamo che cosa vuole dire la dittatura. La sinistra non può portare nessun benessere. La Russia, se avesse un regime capitalistico, sarebbe il paese più forte del mondo. Invece in Russia il benessere è molto miserabile. Ho visto una statistica che dice che il tenore di vita della Russia è tra gli ultimi degli europei. come dare credito a un regime così? Se ci credo che l'uomo va nella luna? Sì che ci credo, perché la scienza è andata avanti in tutti i rami. Se leggo i giornali, leggo sempre la guida e famiglia cristiana. Sono appassionato della lettura. Con l'inverno mi abbona un quotidiano, così il postino viene a portarmi il giornale e vede se sono vivo o morto. Quando leggo, dimentico che fa freddo. Mi prendo delle panciate di freddo leggendo. Quando mi accorgo che il freddo mi ha preso, sono ormai tutto legato. Leggo con il lumino a petrolio. Qui la luce elettrica non è mai arrivata. Vivo solo, sono solo. Ho il mio cane Barbies e quattro gatti che mi tengono compagnia. I quattro gatti sono preziosi, se no i topi mi mangerebbero anche le scarpe. Soffro di aromatismi e mi curo da solo. Mi sono salvato dal letto con il petrolio. Sarà 15 anni che mi curo questa gamba con il petrolio. Il petrolio tira fuori l'acqua. È il miglior medico che esista. I dottori dicono che non è vero, perché è contro il mio mestiere. Il medico di qua mi ha voltato la faccia, mi guarda di storto. Mi ha detto, hai di nuovo messo l'impiastro? Prendo uno strofinaccio, lo bagno in un mezzo bicchiere di petrolio, poi friziono, poi lego lo straccio attorno alla gamba. In dieci minuti è come se avessi la gamba nel fuoco. Sento l'acqua che va su e giù. Si forma una vescica, poi si apre e l'acqua corre tutta per terra. Il petrolio ha un potere enorme come medicinale. C'è chi su una ferita mette le ragnatele. Io metto invece il petrolio. Anche a berlo non fa male. È come il vino di Sambuco. È una purga straordinaria. Ma per me non c'è più né oro né argento che valgono. Ho solo più da vivere qualche giorno. Mio zio è vissuto fino ai 90 anni, ma lui lo sapeva che sarebbe diventato molto vecchio. Una donna di qui, la Biruna, aveva il dono di saper leggere la mano. Conosceva la pelle della mano. A mio zio aveva detto, verrai di 90 anni. E hai indovinato. Sa che cos'è che mi regola il tempo che passa? È questa montagna che ho di fronte. Quando il sole passa tra quei due corni è mezzogiorno. Adesso vado a prendere un pugno di erbe per le mie capre. Grazie.